180 km orari e stiamo andando piano! Benvenuti in red. Benvenuto Lorenzo, ci sono delle persone che passano, doveva partire così. Lorenzo Schiappadini, nuovo tester e giornalista, insomma entrerà a far parte dello staff di red. Andy è già entrato a far parte dello staff di red da oggi, primo giorno di lavoro, tipo primo giorno di scuola con lo zainetto. Come vedete abbiamo fatto la casettina nuova per fare i tuoi podcast. Bell'arredamento, mi piace questa mattonella nera fonossorbente, mi sono già informato perché voglio metterla anche a casa. Esatto, allora avevamo bisogno, io soprattutto avevo bisogno di essere affiancato perché oltre a Marco, oltre Federico, oltre Edoardo, le cose stanno andando molto velocemente, quindi avevamo bisogno di inserire una nuova figura all'interno del nostro staff e Lorenzo mi è sembrato la persona più adatta anche perché grande esperienza nei social. Se l'avete seguito, insomma chi lo ha seguito sui suoi social sa già perché il tempo che ovviamente monteremo il video sarà già passato qualche giorno. Oggi è proprio il tuo primo giorno di scuola. Oggi proprio live dall'ingresso ho annunciato tramite una storia Instagram la mia nuova casa lavorativa e qualcuno, spero tanti, già mi conosceranno, conosceranno un po' il lavoro che ho fatto in questi anni sui social e su YouTube e oggi speriamo di portare tutto questo livello. Ovviamente arrivi da Superbike Italia, che è una rivista molto conosciuta, salutiamo anche Igor. Ciao Igor! Che è grandissimo seguito social eccetera eccetera. Allora ti faccio una domanda, adesso faccio l'intervista al talent, c'è il nuovo talent di Red e quindi faccio l'intervista. Cosa lasci o cosa ti vuoi portare da Superbike e cosa vuoi portare da noi a Red? Allora cosa... Non lo so, aspetta stavo dicendo, ma perché in effetti l'abbiamo scelta? No comunque adesso facciamoci questa domanda, no adesso torniamo seri. Cosa... Allora da Superbike Italia mi porto un bagaglio di esperienza che ho fatto in questi anni enormi, che vuole essere una base di partenza e che voglio portare con me in Red. E l'obiettivo è, collaborando e sfruttando la struttura di Red su tutti i fronti, di far fruttare questa esperienza e di portare dei risultati ancora migliori, prove ancora più dense di informazioni divertenti che piacciono a chi ci segue e che soprattutto rendano anche un servizio. Esatto, ma tra l'altro perché non dimentichiamoci, mi fa piacere che ho visto un po' di commenti sotto i tuoi post, siamo ancora considerati giornalisti, quindi questa cosa qua è importante. E poi alcuni commenti si divertono. Ah, c'è l'ingegnere che... Io sono l'ingegnere, quello che roba i coglioni, quello che è tutto un morale, quello che... Però tu sei la parte fresca. Sarei quello fresco, però vabbè, questa è un po' una questione di personaggi, perché quello che filtra dalle camere poi non è necessariamente tutto quello che siamo e io posso garantirvi che l'ingegnere normalmente, per come lo conosco io quando eravamo colleghi competitor, anche prima di entrare diciamo sotto lo stesso tetto, è un motociclista doc vero, verace di quelli con cui si chiacchiera, si ride, si scherza alla grande. Non mi diverto per niente ad andare in moto. Quindi, allora, innanzitutto questo video è molto breve perché volevo che Lorenzo fosse introdotto nel nostro flow dei video che adesso andrete a vedere da qui in avanti, quindi partiremo con delle presentazioni stampa, lo vedrete, ci vedremo ad EICMA in giro, quindi se ci fermate chiedete, fate lettere a testamento, selfie, tutto quello che volete, ma da qui in avanti partiranno un po' di contenuti e quindi avrete un nuovo volto da seguire sia su YouTube ovviamente dove stiamo andando, e poi su tutti i nostri social che, confido, crescano ancora più velocemente di quello che stiamo facendo. Ultimamente noi abbiamo accelerato parecchio e la tua competenza secondo me ci porterà ad accelerare ancora di più. Pronti via? Comparativa. Partiremo subito. Sono stato convocato, tipo, Lore, l'uno che inizi, il due, andiamo a girare la loro cooperativa. Va bene, non c'è l'inizio migliore. Anche lui sarà parte delle prestigiose, ma mi viene da dire, ma comunque inattaccabili comparativi di Reddy, quindi con le nostre belle pagelline delle dry che quando ci sarà da discutere, che c'è sempre da discutere, ma soprattutto poi, e questo qua mi farà piacere che tu te ne... credo che tu te ne renderai conto facilmente. Si discute, ma questa, quella... A parte che noi partiamo sempre che una ha già vinto e poi di solito vince un'altra. E poi vince un'altra. E' una situazione che un po' conosco. Ma dalla discussione a mettere giù i numeri... C'è sempre... E' lì che sarà, perché dici, ah questa è meglio però dopo quando devi mettere i voti... Insomma, esperienza c'è, confidiamo che prima comparativa sarà a valle di questo video ovviamente, la gireremo nei prossimi giorni, tempo permettendo perché ultimamente fa abbastanza schifo, ma partiremo così, insomma, giusto per scaldarci, poi dopo ci sarà tanto da fare. E poi da quanto ho capito vedendo le comparativi di Red di solito l'acqua si prende sempre, quindi non mi faccio illusioni. Partiremo con la tutta antipioggia. Marco? Vuoi entrare? Vuoi dire qualcosa? No, c'è Marco qua che sta guardando, non so se sta approvando o disapprovando questa cosa, scuote la testa ma non si capisce se va bene o va male, no più che altro perché gli ha rubato il posto, quindi hai detto, perché di solito lui si siede qui, ma avremo tanto da fare... Soprattutto perché la sedia è molto comoda, credo me la porterò a casa. Non si può far vedere cosa c'è sotto. Va bene, finiamo il video qua, aspettiamo i vostri commenti in ogni caso, perché se volete fare delle domande a me e a lui su quello che ci aspetta nella nuova stagione di Red, ma intanto noi ci vedremo ai prossimi video, all'EICMA e poi con Lorenzo, benvenuto in Red. Grazie Stefano, ciao! No! No!